Sigarette e tabacco, aumenti in vista e il governo Meloni è pronto per una decisione sul prezzo delle sigarette. La notizia è arrivata in queste ore e sta già facendo discutere tantissimi italiani. Stando a quanto scritto dal sito Moni, c'è necessità di ottenere altre risorse per la manovra e quindi in questo ambito è previsto un intervento, che è stato in forse. Inizialmente c'era stata indecisione da parte dell'esecutivo di centrodestra, visto che l'aumento del costo avrebbe potuto causare problematiche legate all'inflazione. Ma ora si sarebbe ormai giunti alla scelta finale. A partire dall'anno prossimo, che sta ormai quasi per arrivare, il governo Meloni ha deciso di intervenire sul prezzo delle sigarette con un incremento dello stesso. Pare che si sia scelto di incrementare le accise e, nonostante.